Siamo con il difensore rosso-blu Alessandro Zopoletti, ha pochi giorni una partita importantissima sul campo del Chieti, che sensazioni hai? Sappiamo che sarà una partita difficilissima, come tutte le partite in Serie D, però siamo anche in un buon momento, abbiamo raccolto tre punti in casa con il Matesi, quindi arriviamo sicuramente nella migliore condizione possibile e cercheremo di fare una grande partita anche domenica. Che effetto fa affrontarla da capo essa? La classifica la guardiamo relativamente, sappiamo che i punti che abbiamo derivano dalle grandi prestazioni che stiamo facendo, quindi più che i punti dobbiamo vedere a quanto bene abbiamo fatto e dovremo presentarci al Chieti con la stessa fame che abbiamo avuto domenica nelle altre partite e quindi la classifica, soprattutto in questo momento della stagione, conta relativamente. Il bilancio sulla prima parte della stagione è sicuramente positiva, aver fatto 11 partite da imbattuti è una cosa importante, però il campionato è molto lungo, quindi bisogna solo continuare così e dal punto di vista personale posso dire di essere soddisfatto di questo inizio di stagione, però so anche che posso dare molto di più e ci sono molti aspetti su cui migliorare sicuramente. Ma tu è un po' la favola che ogni tifoso san benedettese vorrebbe vivere, no? Dal passato sulle tribune a sognare quel campo a indossarla, questa maglia. Che sensazioni hai? È sicuramente una tentazione indescrivibile, è veramente il sogno, il sogno di tutti e in primis il sogno mio che avevo da quando ero bambino, quindi vedere la Samba dalla curva per tantissimi anni. Non ha fatto che in generale me il desidero di indossare questa maglia e quindi vedere uno stadio così pieno, un tipo così bello. È sempre una giornata di festa quella ogni domenica riviera quando c'è un'atmosfera del genere, quindi sono felice e grado di questa stagione. Grazie, ciao nel bacio. Grazie a voi.